Erano tutti convinti che di questa piccola osi della terza età immersa nel verde delle campagne di Albignasego non si parlasse più. Fiduciosi che il rischio chiusura e sgombero degli anziani fosse scongiurato per la casa famiglia gestita dall'Onlus Sandra. Un progetto sperimentale di convivenza per nonni che così evitano casi di riposo e badanti tenendosi poi compagnia. Invece ecco il nuovo avviso del comune. La regione non ancora legiferato dunque chiudete entro il 31 agosto. Sarebbe meglio ospitare dei profughi? Ebbè a questo punto sì, io non c'ho nulla, Dio ce ne liberi contro i profughi, però caspita a questo punto sì, è questo che non si capisce ancora. Sarebbe tutto più semplice e rapido in effetti, è la provocazione dei coniugi Merola. Forse dovremmo diventare noi dei profughi, i nonni, noi proprio italiani dovremmo diventare dei profughi, forse saremo più tutelati. Niente ferie per la famiglia allargata, qualche giorno di vacanza lo avrebbero comunque fatto in compagnia degli anziani in montagna. Le dico che qui si sta bene, che il comune ha finito a rompere le scatue, e che il sindaco si fa a fare vedere qua, a dire tante cose e non si ha mai fatto vedere qua, a trovare i nonni. Dovrebbe venire qui. Che si è vergogna. Alcuni nonnini nei mesi scorsi hanno anche accusato Malori per l'ansia di perdere questa vita in compagnia. Stanno facendo la legge sull'affido, su un progetto che effettivamente va bene, e questo progetto lo chiudiamo perché non serve. Come non serve? Ma se stiamo facendo questa legge proprio sulla base di questo, è veramente una cosa dell'altro mondo.